Giorno 434. La giornata di ieri ha visto altri attacchi con droni sulla Crimea. Attacchi che hanno avuto successo e distrutto un enorme serbatoio di carburante. Le fiamme hanno raggiunto i 1500 metri quadrati ancora più grande dell'incendio a Sebastopoli. Gli ultimi rapporti indicano che questa volta i pompieri sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse ad altri giacimenti e anche questa volta non sono state riportate vittime. Questa è la seconda volta che le riserve di carburante utilizzabili dalla flotta del Mar Nero vengono colpite. Secondo alcuni analisti, dopo una serie di attacchi falliti che cercavano di danneggiare direttamente la flotta, gli ucraini hanno deciso di focalizzarsi su qualcosa senza la quale la flotta non può operare, in questo caso carburante. Due giorni fa sono state rilasciate foto satellitari del deposito di carburante a Sebastopoli e hanno mostrato che 10 serbatoi sono stati distrutti, 6 sono stati danneggiati dalle fiamme e altri 6 rimasti intatti e pronti all'uso. La notizia più importante riguarda però due droni che hanno colpito Mosca nella giornata di ieri. I video mostrano un drone colpire la cupola ed esplodere. I russi hanno mandato una squadra per ispezionare i danni e raccogliere quello che rimaneva del drone per analisi. La struttura non ha ricevuto danni importanti e non ci sono state vittime. Fonti russe hanno immediatamente accusato gli ucraini di aver cercato di attentare alla vita di Putin, cosa che gli ucraini hanno immediatamente negato dichiarando di non essere responsabili per l'attacco. Gli ucraini sono però responsabili dell'attacco all'aeroporto a Bryansk, dove almeno un velivolo è stato danneggiato. È possibile che sia una risposta al recente attacco missilistico per il quale i russi hanno usato l'aviazione per poter lanciare i missili KH-101 per distrarre la contraria e far passare i calibri. Nel caso fosse vero, allora lo scopo sarebbe quello di costringere ancora una volta i russi a rilocare i cacciabombardieri abbastanza lontano dall'Ukraine per dar tempo alla contraria di reagire in maniera adeguata. Un attacco è stato condotto anche a Feodosia. Autorità locali hanno dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto un oggetto volante, quindi le intenzioni dietro quest'attacco erano o di fungere da distrazione per permettere l'attacco contro i depositi, o parte della mappatura della nuova disposizione delle contraeree nella penisola. Due giorni fa una serie di esplosioni è stata registrata in Crimea. I droni hanno bersagliato vari obiettivi a Sebastopoli, Sinferopoli ed Evfatoria. A Sebastopoli esplosioni e spari sono stati sentiti vicino alla Baia, dove è ancorata la flotta del Mar Nero. A Sinferopoli l'esplosione è avvenuta vicino alla base degli operatori speciali russi. Infine a Evfatoria le esplosioni sono avvenute vicino all'aeroporto russo e le autorità locali hanno riportato che le difese aeree avevano intercettato con successo un oggetto volante. C'è anche stato un importante deragliamento nel territorio della federazione russa. È avvenuto nella regione de Bryansk e secondo fonti russe è stato causato da un gruppo di sabotaggio ukeano che è riuscito ad arrivare in profondità nella regione e a far saltare in aria un importante collegamento ferroviario. Questo a ben più di 100 km dal confine. Come risultato due locomotive che portavano carburante sono deragliate e hanno preso fuoco. In generale sembra che gli ukeani stiano cercando di ottenere due obiettivi. Quello di far allontanare abbastanza gli aerei russi bombardando gli aeroporti in modo che le difese contro aeree abbiano più tempo per reagire e coordinarsi. E secondo causare un'importante carenza di carburante su tutti i fronti in modo che i russi non possano utilizzare in maniera estensiva carri e macchinari pesanti. Il tutto con mezzi relativamente poco costosi. Infatti come visto invece di usare estessivamente gli emars, gli ukeani si sono affidati a diversi droni a basso costo per eliminare circa 40.000 tonnellate di carburante in un solo attacco. Continuare questi attacchi diminuirà significativamente le abilità russe di difendersi durante la controffensiva. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ukeani per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.